Ciao ragazzi, benvenuti sul canale ND. Allora, sentiamo nominare sempre la propaganda russa, ne sentiamo parlare sempre, soprattutto da quando è cominciata la guerra in Ucraina. Ma vi siete mai chiesti che cos'è però questa propaganda in concreto? Come funziona e soprattutto come mai è così efficace? Oggi vorrei parlarvi proprio di questo. Ragazzi, mi raccomando, se non siete ancora iscritti vi chiedo come sempre di iscrivervi. Se vi piace il video mettete un like e datemi una mano a diffonderlo. Grazie. Allora, vorrei cominciare subito con qualche numero. A marzo di quest'anno la Russia ha speso 157 milioni di euro per i mezzi di informazioni di massa, cioè per la propaganda. Per fare un confronto, il bilancio della federazione russa per l'anno 2023 ha stanziato per la costruzione e la ristrutturazione delle strutture pediatriche solo 20 milioni di euro. E i propagandisti televisivi percepiscono degli stipendi da favola. Vi faccio un esempio. Un conduttore televisivo del canale 1, Artyom Shane, già nel 2020 percepiva uno stipendio mensile di 105 mila euro. Un dottore nelle province russe guadagna ma la pena 1000 euro al mese. La propaganda in Russia ovviamente non è nata ieri. È stata sempre uno strumento importante nelle mani di Vladimir Putin per usurpare il potere in Russia. Già nel 2000, subito dopo l'insediamento, ha cercato subito di mettere sotto il proprio controllo tutti i mezzi di informazioni di massa nel paese, soprattutto i canali televisivi. All'epoca i social media non erano ancora così sviluppati come adesso. Infatti nel giro di pochi anni in Russia non era più rimasto neanche un canale televisivo, neanche una testata giornalistica indipendente. Uno dei casi più eclatanti, più emblematici di questa spudorata eliminazione di qualsiasi punto di vista alternativo nel paese è stata l'occupazione del canale indipendente NTV nel 2001. Dopo diverse peripizie legali innescate dal regime per attaccare, per sottomettere il canale, dopo diverse manifestazioni buoni di piazza per difendere la libertà della stampa, la libertà della parola, gli studi dell'NTV sono stati semplicemente occupati con forza dagli uomini del regime. E questo ovviamente è solo un esempio. Se ne potrebbero raccontare a centinaia di storie simili, storie che riguardano singoli giornalisti, canali televisivi, radio o anche dei semplici account social che riportano dei punti di vista alternativi. Come spiega Andrei Serghienko a Radio Svaboda, ci sono stati due momenti distinti in cui questa macchina da guerra della propaganda del Cremlino si è incattivita in particolar modo. Il primo momento è stato fra il 2011 e 2012, in concomitanza con le elezioni parlamentari truccate e l'insediamento di Vladimir Putin al terzo mandato presidenziale che violava spudoratamente la Costituzione della Federazione Russa. E il secondo momento è stato fra il 2013 e 2014, in concomitanza con gli eventi di Maidan e l'annessione della Crimea. Come spiega sempre Radio Svaboda, in questo periodo fra il 2013 e 2014 la rete russa e anche la rete internazionale è stata letteralmente inondata di fake news di ogni tipo che sostenevano la legittimità dell'ex presidente ucraino pro-russo Yanukovych e anche di fake news che sostenevano la legittimità dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa. Un altro tema ricorrente di queste fake news erano le presunte atrocità del governo di Kiev. All'inizio queste notizie false erano abbastanza spudorate, ma pian piano la propaganda diventava sempre più sofisticata e ricorreva sempre di più all'uso delle mezze verità e delle manipolazioni magari accompagnate dai titoli forvianti. E nello stesso periodo si era cominciato a ricorrere a un utilizzo massivo delle cosiddette fabbriche dei troll, cioè delle persone stipendiate per scrivere i commenti sotto le varie notizie o magari scrivere dei post sui vari social. Tutto per creare l'impressione che chi ha un punto di vista diverso da quello ufficiale, da quello del regime, è in una minoranza assoluta. Ma la parte più aggressiva, la parte più spudorata della propaganda di Putin è la televisione. In televisione la propaganda non è presente solo nei notiziari, è presente anche nelle serie tv, nei talk show e persino nei cartoni per i bambini. Ma la parte più sfruttata dai propagandisti sono i cosiddetti talk show televisivi, semplicemente perché sono poco costosi, costa poco chiamare in studio degli ospiti, chiamare in studio dei vari esperti e fargli parlare fra loro. E la cosa peculiare è che in questi talk show ci sono sempre anche delle persone che riportano un punto di vista diverso. Ma qual è il trucco dei propagandisti? È lasciarli poco spazio, interromperli sempre e invece far parlare bene e in modo ben argomentato i sostenitori del punto di vista del regime, del punto di vista ufficiale. Un altro motivo per cui si ricorre così tanto all'utilizzo di questo talk show è che gli ospiti possono dire qualsiasi cosa, possono promuovere qualsiasi idea folle, possono parlare della guerra atomica, possono dire che il popolo ucraino va sterminato, qualsiasi cosa e la redazione può sempre tirarsi indietro dicendo appunto che siamo in un paese libero e le invitati di un talk show televisivo sono liberi di dire qualsiasi cosa. Ma come mai questa propaganda ha trovato un terreno così fertile nella società russa? Come spiega Alexei Rubtsov, il professore della facoltà di filosofia RAN di Mosca, la società russa è malata del complesso del narcisismo imperiale, una roba simile che ha passato la società tedesca dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e in parte anche la società italiana dopo la cosiddetta vittoria mutilata nella prima guerra mondiale. La propaganda è diventata per la società russa una vera e propria droga, una droga di cui ha bisogno quotidianamente per non affrontare quelle difficoltà che vede tutti i giorni. Mala sanità, corruzione alle stelle, criminalità organizzata, insomma un paese completamente diverso da quello che avevano sognato e da quello che vedono in televisione. Il narcisismo come ci insegna la psicologia nasce da un complesso di inferiorità e la propaganda aiuta proprio ad alleviare questo complesso, aiuta a far sentire grande chi in fondo in fondo si sente piccolo e si sente inferiore agli altri. Ma la propaganda che inizialmente era uno strumento potente nelle mani del regime per usurpare il potere e per controllare la società sta diventando invece un boomerang, sta creando due fazioni assolutamente in opposizione fra loro, i sostenitori del regime da una parte e gli oppositori del regime dall'altra parte. E queste due fazioni non si incontrano mai e anzi si odiano fra di loro e sono letteralmente pronti alla guerra. Sono dei presupposti per una guerra civile. Ragazzi buon anno a tutti, buon 2023. Speriamo che sarà finalmente un anno di pace e alla prossima.